Eeeh saluto del giocatore e da intornare in questo nuovo vecchimo video Allora, video molto velocissimo, giusto per darvi questa notizia, non so cosa chiamarlo, anzi questo annuncio Praticamente siete tutti invitati nel clan Blackwaters, un clan principalmente di The Division 2 Ma anche di Anthem, quindi se cercate gente a cui giocare a The Division 2 e Anthem è il posto perfetto In descrizione vi lascio solo ed esclusivamente il link al Discord E basta che contattate i colonnelli o i generali e verrete introdotti dentro al clan Quindi ricordatelo, se cercate amici con cui giocare a The Division 2 o Anthem basta venire in questo Discord Scrivete ehi vengo dal video di Cooper e intanto vi fanno entrare subito Quindi se vi interessa l'invito è aperto a tutti quanti, siamo persone amichevoli, magari c'è chi è più competitivo dell'altro Eeeh però insomma siamo tutti persone molto bravi Quindi niente, vi ringrazio tantissimo per la visione E niente, al prossimo video e spero che entriate in tanti Secondo me questo video non solo incollerà nessuno Ciao Grazie a tutti